Materia organica e inorganica. Gli scienziati classificano la materia in due categorie, materia organica e inorganica. La materia organica sono gli esseri viventi e ciò che deriva da essi, ad esempio noi, gli animali e le piante. Invece la materia inorganica è tutto quello che non ha vita, ad esempio roccia, cemento, plastica. In un ecosistema avvengono dei scambi tra materia organica e inorganica, tipo una pianta ha bisogno anche di materia inorganica, cioè acqua e terreno.